Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di qualche release che è stata annunciata nell'ultimo periodo e inoltre anche di un tema caldo di cui si è scatenata diciamo una bufera e ha trovato dei pareri anche contrastanti tra le persone. Comunque tanto adesso, dato che gli argomenti sono vari, partiamo subito e ne analizziamo uno per volta. Il primo da cui volevo partire è quello proprio di H&M, ovvero la bufera che citavo prima. Perché la bufera? Dunque H&M era stato nello scorso ottobre, quindi d'ottobre 2017, già al centro di una polemica, ovvero dove finivano gli invenduti, cioè i vestiti invenduti del brand. Dunque da delle analisi specifiche effettuate sembrerebbe emerso che il brand dal 2013 abbia bruciato una somma come 60 tonnellate di vestiti. Ma non è tutto in quanto il brand è tornato sotto i riflettori, poiché notizia recente, ovvero mi sembra il 7 gennaio, quindi qualche giorno fa, è scoppiata un'altra polemica. Il brand svedese sul proprio sito e-commerce avrebbe inserito una felpa per bambini di colore verde, con scritto sopra di essa una frase che tradotta vorrebbe dire tipo la scimmia più cool della giungla, una cosa del genere. Quello che poi sembrerebbe aver scatenato tutta la polemica è che questa felpa era indossata da una specie di modello, in realtà era un ragazzetto, quindi da un bambino di colore. E questo sembrerebbe aver portato a sentimenti contrastanti, in quanto da una parte si schiera chi dice che il razzismo ad oggi dovrebbe essere superato, e quindi che lì fosse un bambino di colore, oppure bianco, oppure non lo so nemmeno io, ciò non avrebbe cambiato sicuramente niente. E dall'altra parte, come è deducibile, coloro che accusavano il brand di razzismo. Da questa parte si sono scherati tanti personaggi pubblici, uno su tutti The Weeknd, che ha anche annunciato tramite un tweet sul proprio account personale, che non intenderà mai più collaborare con il brand svedese. Quindi sembrerebbe che il brand ne combini una dopo l'altra e non trovi pace. Ecco, tutto ciò è stato scatenato da quello che ho capito, tramite una foto postata su Twitter, che poi è diventata virale. Avevo letto vari articoli, sembrerebbe che fosse stata una tipo blogger americana, una cosa del genere, che si era accolta di questo fatto e aveva condiviso la foto sul proprio account. Fatto sta che il brand comunque si è scusato, ha messo delle scuse pubbliche, però diciamo che l'errore, qualora appunto l'avesse fatto, non si cancella con delle scuse. Un'altra notizia di cui volevo parlarvi è il lancio da parte del brand Off-White della linea For All, cioè accessibile a tutti. In questa linea infatti sono presenti delle t-shirt e delle felpe che hanno un costo molto più basso rispetto a quelle che il brand propone sul proprio sito online o comunque nei negozi. Questa mossa, come anche il designer Vigilablo dice, ma è abbastanza intuibile, è stata fatta per ricoprire più pubblico possibile, cioè più clienti possibili. Ad oggi infatti è quasi impossibile che un brand abbia solo una linea, ma solitamente tende a averne più di una per ricoprire un pubblico più ampio, ovviamente. Quindi tutti coloro che non potevano permettersi una felpa di 400-500 euro sicuramente troveranno spazio in questa linea. La grafica è piuttosto convincente, in quanto appunto rimane con la tematica del brand, cioè con le stice in diagonale bianco e nero, qualche scritta e le tonalità piuttosto basic bianco e nero. Questa linea è stata già messa in vendita a partire dall'8 gennaio nei negozi Off-White a giro per il mondo, tra cui New York, Hong Kong e Sydney. Inoltre non ho ben capito se in Italia è reperibile in qualche negozio, ma se così fosse soltanto sicuramente a Milano. Perciò il brand con questa mossa ha voluto intercettare un'altra fetta di mercato. Sempre un altro lancio imminente è la collaborazione di Air Jordan 4 con le Vice, ovvero sono state realizzate le shoes, quindi le Air Jordan 4, in collaborazione con le Vice con una tonalità tutta di jeans. Sono stati inoltre prodotti anche dei jacket, dei denim jacket, di varie tonalità, nero e tonalità appunto denim. E il costo annunciato per queste shoes è intorno ai 225 dollari, cioè sui 200 euro a regola. Sembrerebbe la data di uscita fissata per il 17 gennaio e in Italia iSnowbity, che ha compilato una lista degli store che dovrebbero appunto distribuirle, ha inserito soltanto uno store attualmente che è Backdoor Bottega di Bologna. La modalità comunque di distribuzione ancora non sarebbe presente come Backdoor ancora non ha rilasciato niente sui propri social. C'è stata invece successivamente alla registrazione di questo video, ovviamente, una risposta da parte di Backdoor che sembrerebbe smentire ciò che iSnowbity ha scritto, cioè che il loro appunto non le distribuirebbero. Ultima release di cui volevo parlare e che torneremo a affrontare poi in seguito sicuramente, è quella annunciata tra Adidas e Dragon Ball. Cioè questa collaborazione dovrebbe portare alla creazione di 7-8 scarpe che verranno vendute al pubblico nel periodo autunnale del 2018. Attualmente abbiamo l'immagine di due modelli di scarpe che sembrerebbero definitivi. Il primo è il modello Adidas Jung-Wan che sembrerebbe riadattato al personaggio di Freezer per dar vita alla Jung-Wan Freeza. Il secondo invece è il modello Profir che sembrerebbe trovare la sua collaborazione con il personaggio di Cell per dare vita alla Profir Cell. Benissimo, anche per questo video ho concluso le cose da dirvi. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate riguardo delle cose che vi ho detto, delle varie cose. Se ce n'è una in particolare che vi ha colpito, cui volete discutere. Io ringrazio tutti per l'attenzione, noi raga ci rivediamo sicuramente con un prossimo video. Non dimenticatevi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e iscrivervi al gruppo Facebook, qualora ancora non l'avete fatto. Bella!